Il Presidente De Laurentiis ha parlato del 12esimo uomo in campo per i tifosi, ci sono sviluppi sulla vicenda del ritorno dei gruppi organizzati allo Stadio Maradona? Abbiamo parlato con il Presidente per vedere insieme di trovare la soluzione migliore che riesca a coniugare ovviamente il rispetto delle regole, il rispetto dei principi di legalità che ovviamente sono intangibili con la possibilità per i gruppi organizzati di rientrare. Io credo sempre che dal dialogo poi si possa ottenere la migliore soluzione per tutti. Domani è possibile? Domani è possibile in che senso? Che rientri no. Noi credo che ci voglia del tempo perché chiaramente dobbiamo trovare le soluzioni giuste e soprattutto li dobbiamo concordare con la Questura che è la responsabilità dell'ordine pubblico anche all'interno dello stadio, ma comunque è un percorso che abbiamo avviato e che credo porterà una soluzione che possa soddisfare tutti. Perché è successo questo problema soltanto a Napoli in tutta Italia? Ma guardi, io non farei il caso di Napoli come un caso particolare. Chiaro che ci sono situazioni diverse, anche la logistica degli stati è diversa. Abbiamo attraversato la crisi del Covid che chiaramente ha richiesto degli interventi straordinari. Adesso avvieremo un percorso per fare in modo che questo problema possa rientrare.